Eccoci qua, io sono pronto, ho anche montato parte della tenda, sono le 9 in questi istanti in Italia, quindi sono le 8 qui. Faccio rotta per la Scozia, inizialmente un mare deciso di prua, anche 20-22 nodi, poi al mascone di sinistra e ci aggiorniamo sicuramente più avanti, io fra qualche minuto mollo l'ormeggio. Buon sabato a tutti, ciao!